Ciao ragazze, oggi parliamo di Kerastase Bain Olo Relax, ovvero lo shampoo adatto a tutti noi che vogliamo il nostro capello liscio, con la fibra capillare proprio liscia e distesa. Quindi, bagniamo la nostra cute, applichiamo una noce del nostro shampoo, applichiamo in cute, un altro goccino d'acqua, massaggiamo bene e risciacquiamo. Questo è uno shampoo che andrà a detergere in modo ovviamente delicato e soprattutto è per tutti noi che vogliamo un capello liscio, con già la nostra fibra capillare liscia, pulita, lucida. Quindi comunque questo prodotto ci andrà già ad aiutare a fare la nostra messa in piega liscia dopo. Mi raccomando, poco prodotto, sciacquato bene e vedrete un'ottima lucentezza e idratazione. Grazie, ciao!